Siamo alla Spezia per la 94esima edizione del Palio del Golfo. Qui con me il presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Giannello. Allora Massimo, quest'anno c'è un grandissimo entusiasmo. Sì, l'entusiasmo c'è sempre, quest'anno in modo particolare, perché è un anno dove c'è molta incertezza su chi vince. Ma raccontami, in che cosa consiste questo Palio? È una gara fatta tra le 13 borgate che si affacciano sul Golfo di Spezia, che si sfidano la prima domenica d'agosto per poter primeggiare sulle altre. Un tifo quasi da stadio. Sì, è un tifo difficile da gestire, perché poi il giorno dopo sono tutti amici, perché comunque poi si conoscono tutti e vanno magari a festeggiare insieme, a ballare insieme. Ma una volta che l'imbarcazione è arrivata prima, ha vinto? No, no, assolutamente no. La barca che ha vinto viene tirata su, ripesata, controllata e poi il giudice dà l'ok. E allora i borgatari la possono prendere e portarsela via. E il premio in che cosa consiste? Premio o niente? Come niente? Il premio è un pezzo di stoffa, noi diciamo. È il palio che le borgate che vincono costruiscono molto gelosamente nella propria sede, fino al venerdì prima della gara, dove viene riconsegnato con una cerimonia al sindaco, che lo tiene tre giorni nella sala comunale, per poi la domenica ridarlo a chi vince. Chi vince è agli onori della città per tutto un anno. Cioè a Spezia se uno va a vincere un campionato europeo non se lo ricorda nessuno. Uno che vince un palio, quando passi per la strada tutti ti riconoscono e ti salutano.